Musica Ne presento quando stiamo registrando e giustamente passa l'ambulanza Stiamo registrando e passa l'ambulanza Forse deve venire a prendere qualcuno di noi due Bella a tutti ragazzi, siamo in The Challenge Niente ragazzi, oggi siamo in questo secondo vlog Secondo Dove c'è anche Gabriele Che smudere la mano? Quindi ragazzi, che dire? Eh, sì, che dire? Eh, 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 che dire Basta, facciamo il vlog Allora? Eh, quindi raga Raccontaci un po' dei tuoi fatti Di perché, dove sei andato, perché sei mancato Allora, sono andato a San Vinto Ehm, sono andata a mare per sette giorni Cioè, una settimana Ehm, eh, sono andata a mare Sono andata in piscina Ho nuotato Mia sorellina di quattro anni Ho imparato a nuotare finalmente Ehm, è preciso da ricordare Ale e ritorna per una settimana Ehm, beh niente, solo questo Va bene Io direi allora proprio di partire col vlog Esatto Allora, ragazzi, innanzitutto Cioè, siamo sconvolti Cioè, 62 iscritti L'altra volta che lui ha fatto il vlog Ce ne erano 20 62, grazie di cuore E comunque, allora Dopo questo vlog Ehm, noi faremo sette secondi per Ehm, consiste nel, tipo Lui mi dice ai sette secondi per imitarmi Ehm, e quindi io lo dovrò imitare 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 Dovremo mangiarci un po' di buona No Ehm, e quindi E poi faremo E provo a farmi ridere Non sto qui a spiegarvela Perché già si capisce del nome Ehm Io il cappello girato per non fare la pubblicità Alla miglior che è che si Perché se no La scoprono le marcarie Perché magari da qua non si vede Vabbè a questo punto tengo il cappello E quindi Ehm Ehm Ehm, ah, sì Siccome Allora, noi abbiamo Ecco Vai, parla Mancava lui Ah, la mascotte E' nudo Quindi noi abbiamo Ehm, pagina Instagram E Facebook Facebook Infatti già qualcuno ha messo lì Mi piace Ehm, e io ho creato la pagina Periscope Se volete la live Scrivetecela sotto nei commenti Noi ci vediamo in un prossimo vlog E alla prossima challenge Vi presenti i momenti di pazzia Questo è uno di quelli Ma io l'italiano Sì sì, diceva l'italiano Ma non lo so E' buono Che schifo Non era più buono Era andato a mare secondo me Dov'è? Cazzo è andata qui Che schifo Era andato a mare Ehm He he Ma è